Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho realizzato insieme a voi questo trucco elegante, magari per le sere d'estate, molto semplice e veloce, quindi è possibile farlo veramente da tutti. Guardate il video e fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, ho già fatto la mia base, quindi con fondotinta e correttore, dopo appliceremo blush e bronzer, ma continuiamo con gli occhi. Quindi ora applico un ombretto in crema, questo qua è di Occhio Makeup nella colorazione Graceful Glacé e questi ombretti sono incredibili, perché ne basta poco e durano tanto, tanto tempo e sono veramente pazzeschi. Quindi io applico il mio ombretto su tutta la palpebra mobile, mi raccomando, come vi dico sempre, applicatene poco alla volta e poi dopo lo andate a sfumare, così riuscirete pian piano ad aggiungere il prodotto dove vi serve. Dopodiché prendo un marroncino caldo con un pennello da sfumatura e lo applico nella mia piega dell'occhio. In questo modo faccio questo movimento avanti e indietro. Questa palette è veramente valida, è dezoeva e mi piace veramente tanto, infatti mi sa che quest'anno in vacanza mi prendo solo lei, perché è piccola, però mi piace. Quindi lo sfumo in questo modo, come al solito porto verso l'esterno e sfumo il tutto per bene. Ora prendo un marrone più scuro, da questa palettina qua di Morphe, anche lei è molto bella, e incomincio ad intensificare la parte esterna in questo modo. Quindi mi concentro, come se dovessi fare praticamente un eyeliner sfumato. Sfumo il tutto, però lo riporto sempre verso il marroncino che ho applicato prima e poi col pennello posso risfumare e poi intensifico in base a quello che voglio ottenere. Anche questi ombretti sono super validi e morfi, si trova, spedisce su Douglas o sul proprio sito. E quindi pian piano incomincio ad intensificare un pochino questa parte esterna. Ora prendo questo ombretto qua centrale con il dito e lo vado a tamponare nella parte centrale del mio occhio, in questo modo, perché voglio che questa parte sia bella luminosa. Creo il mio punto luce con questi due qua, nell'angolino esterno, in questo modo qua, così che lo sguardo sembra bello aperto e luminoso. E ora col pennellino semplicemente sporco di prima vado leggermente nella rima inferiore e la coloro in questo modo, così che sia tutto sempre omogeneo. Mi raccomando, mai stacchi di colore perché è terrible, terrificante. Quindi sfumate per bene, prendetevi magari due minuti in più, però è sempre meglio vedere un lavoro fatto bene piuttosto che delle cose messe a caso. Ora applico un po' di bronzer, questo qua è il duo contouring di essence e scaldo il mio viso, anche lui è molto garido, mi piace veramente tanto, è piccolino quindi lo si porta in giro tranquillamente. e come blush utilizzo questo qua di Kylie, che però, buh, niente di che lo volevo provare, ma, buh, si può stare anche senza, sinceramente. E lo applico un po' così, cioè non è un colore che dice, oh mio Dio, non l'ho mai visto, lo trovi anche a meno. Come mascara uso il pillow talk di Charlotte Tilbury, questo è il mini size perché è un po' grande che costa un rene. E quindi non è niente male, cioè, è tanta roba, però sono piena di mascara e quando poi mi servirà ci penserò. Sulle labbra applico la matita All Day Love Lips di Cleo Makeup nella colorazione All Day Nudo Clock. Queste matite sono incredibili. Faccio tutto il contorno delle mie labbra. E per finire, sopra, applico il Biongelli Solstice di Nabla. Bellissimo. Credo che rimangono idratate, ma con questa matita ci stanno da Dio. E questo quindi è il risultato finale del make-up elegante da sera, per le sere d'estate. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, mi piace veramente tanto. Voi lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video.